È in questi anni che Totò conosce il boss Luciano Liggio, che lo affiliò nella cosca mafiosa locale, di cui faceva parte anche suo zio Giacomo. A 19 anni Riina viene condannato a 12 anni di carcere per l'uccisione di un suo coetaneo, Domenico Di Matteo, ma viene scarcerato nel 1956, e due anni dopo diventa uno dei sicari più spietati di Liggio nella guerra contro Michele Navarra. Riina, nel 1963, viene arrestato una seconda volta per cinque omicidi consumati dal settembre 1958 a luglio 1962, in concorso con Bernardo Provenzano, Calogero Bagarella e altri ignoti. Nel 1969, però, dopo aver minacciato di morte i giudici, viene assolto per insufficienza di prove per gli omicidi che gli erano stati attribuiti e riceve solo una condanna a un anno, e sei mesi di reclusione, già scontati a titolo di custodia cautelare, per furto della patente esibita al momento dell'arresto. Tornato a Corleone, viene nuovamente arrestato e mandato al confino per quattro anni in San Giovanni in Persiceto, Bologna, ma, da quel momento, inizia una latitanza, che durerà per ben 24 anni. L'ascesa dentro Cosa Nostra. Riina, in questi anni, punta a scalare i vertici di Cosa Nostra, e diventa l'esecutore materiale di molti sequestri di persona e vari omicidi. Il 10 dicembre del 69, uccide il boss Michele Cavataio nella cosiddetta strage di Viale Lazio, mentre nel 71 è la volta del procuratore Pietro Scaglione. Nel 1974 Riina, dopo l'arresto di Liggio, assume il ruolo dirigente della cosca di Corleone e quattro anni più tardi fa espellere dalla commissione Tano Badalamenti, accusato di aver fatto uccidere Francesco Madonia, legato ai Corleonesi. Il suo potere cresce grazie all'influenza, che riesce ad esercitare su Michele Greco, nuovo capo della commissione, e ai legami con i politici democristiani di Palermo, Salvo Lima e Vito Ciancimino. A contrastare politicamente quest'ultimo erano Pier Santi Mattarella, presidente di C.I. della Regione, e Piola Torre, segretario regionale del P.I.C., che vengono uccisi rispettivamente il 6 gennaio 1980 e il 30 aprile 1982. Sempre Riina è il mandante dell'uccisione dell'allora prefetto di Palermo, il generale Carlo Alberto dalla Chiesa, di sua moglie, e della sua scorta? Sono questi gli anni della seconda guerra di mafia, che vedono l'assassinio di Stefano Bontate, e di oltre 200 mafiosi della fazione Bontate in Serillo Badalamenti. Il massacro finisce nel 1982 quando Riina si insedia a capo della nuova commissione, composta soltanto dai suoi fedelissimi. Mai c'era stato tutto quel sangue, mai c'era stata quella ferocia. La regola prima era un'altra. Uccidere solo quando era necessario, quando era utile, dirà Tommaso Buscetta. La stagione delle stragi. Il 29 luglio 1983 Riina ordina l'uccisione del giudice Rocco Chinnici, uno degli ideatori del Pula antimafia, ma, nel 1984, l'estradizione di Tommaso Buscetta, e la sua decisione di collaborare dà una svolta nella lotta alla mafia. Non sono un infame, non sono un pentito, non ho tradito cosa nostra. È cosa nostra che ha tradito se stessa, dirà Buscetta davanti a Giovanni Falcone. Il 30 gennaio 1992 la Cassazione sancisce l'attendibilità delle dichiarazioni rese da Buscetta e conferma gli ergastoli del maxiprocesso. Da quel momento fioccano le condanne all'ergastolo per gli innumerevoli omicidi commessi o commissionati. Questo segna l'inizio della stagione delle stragi di mafia che portano all'uccisione del politico Salvo Lima, e dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.